L'edizione straordinaria, questa mattina il deposito di scorte di Torre Angela è stato distrutto da una violenta esplosione, per gli inquirenti si tratta di un attentato terroristico, le forze dell'ordine sono già sulle tracce dei responsabili, le indagini si concentrano nell'area del ghetto di Roma Est, che negli ultimi mesi è stato teatro di numerosi disordini. L'edizione straordinaria, questa mattina è stata distrutta, a presto, a presto, a presto. a presto, a presto, a presto, a presto, a presto. a presto, a presto. a presto. a presto. a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.